Il Signore ci insegna oggi ad essere liberi. Quante volte nella nostra vita ci sentiamo condizionati dalle opinioni degli altri su di noi, a tal punto da bloccarci o impedirci di essere noi stessi. Liberiamoci della pesantezza dello sguardo altrui su di noi. Impariamo a vivere senza la necessità di metterci delle maschere che abbelliscano o nascondano i nostri lati deboli. È l'accettazione della debolezza che ci offre la forza di migliorare e cambiare i rapporti con gli altri. Oggi Gesù si siede alla mensa con te, non ti respinge per i tuoi peccati ma ti accetta così come sei. Oggi sei tu il pubblicano invitato alla conversione, sei tu che devi alzarti e seguire Gesù sulle strade della vita. Cosa devi lasciare per seguire Gesù? In quali situazioni della vita tendi a non essere autentico e a nasconderti dietro una maschera?